La lingua italiana per stranieri, corso elementare e intermedio, di Katerin Katerinov e Maria Clotilde Boriosi Katerinov. Seconda unità, unità numero due, verbi di moto, verbi modali, le preposizioni semplici. Uno. Asciare. Carlo. Ciao, Roberto. Che programmi hai per domenica? Roberto. Penso di andare in montagna. Carlo. Dove? Roberto. Al Terminillo. Carlo. Vai da solo o con qualche amico? Roberto. Vado con Luigi e Giorgio. Perché non vieni anche tu insieme a noi? Carlo. Volentieri. Andiamo in macchina o in pullman? Roberto. Forse con la macchina di Luigi. Carlo. Che strada facciamo? Roberto. Fino a Orte l'autostrada. Poi prendiamo la strada per Leonessa. Carlo. A che ora pensate di partire? Roberto. Fra le sette e le otto. Ti va bene? Carlo. Sì, per me va bene. Roberto. Allora a domani. test. Roberto pensa di andare in montagna domenica. Vero. Roberto ci va da solo. Falso. Roberto e gli amici vanno in pullman. Falso. Roberto e gli amici partono fra le sette e le otto. Vero. Vero. Tre. Ora ripetiamo insieme. Che programmi hai per domenica? Penso di andare in montagna. Vai da solo o con qualche amico? Andiamo in macchina o in pullman? Forse con la macchina di Luigi. Prendiamo la strada per Leonessa. A che ora pensate di partire? Fra le sette e le otto. Quattro. Rispondete alle seguenti domande. Che programmi ha Roberto per domenica? Andare in montagna. Roberto va da solo o con qualche amico? Roberto va con qualche amico. Roberto ed i suoi amici vanno in macchina o in pullman? Roberto e i suoi amici vanno in pullman. A che ora pensano di partire Roberto e i suoi amici? Roberto e i suoi amici pensano di partire fra le sette e le otto. Cinque. A. Ogni pomeriggio andiamo in biblioteca a studiare. Domani Luisa va in città a fare spese. Il mese prossimo vado in Inghilterra. Sono stanco. Vado a letto presto stasera. Vai a Roma domani? I signori bianchi vanno prima a cena e poi a teatro. Vado a pranzo da Paolo. È il suo compleanno. Andate da Luigi oggi pomeriggio? B. Ogni giorno vengo a scuola in autobus. Nessuno di voi viene a Firenze con me? Se finite di studiare presto, venite a fare una passeggiata in centro? Anche Paola e Gino vengono in discoteca con noi. John viene in Italia ogni anno. Di solito il signor Dotti viene in ufficio a piedi. Viene da Milano questo treno? No, da Genova. Più tardi veniamo tutti da te. Vieni da Milano? Viene da Milano. Veniamo da Milano. Venite da Milano? Vengono da Milano. 6. Completate le seguenti frasi secondo l'esempio. Andare. Questo treno va direttamente a Bologna. Venire. Oggi Giorgio viene a casa mia a studiare. Voi andare. Voi andate in montagna domenica? Venire. Da dove viene, signorina? Venire. Io vengo da Parigi. E tu da dove vieni? Andare. Andare. Noi andiamo a Firenze in macchina. Clara e Giovanni vanno in Pullman. Andare. Dove va, signor Rolla? Venire. Maria, vieni in discoteca con noi stasera? Venire. Venire. Anche noi veniamo da Boston. Andare. Io vado a mangiare alla mensa. Andare. Carlo, vai in centro più tardi? Sette. Claudia va in Germania. Claudia va in Inghilterra. Eccetera. Claudia va in biblioteca. Claudia va in discoteca. Eccetera. Claudia va in montagna. Claudia va in città. Claudia va in centro. Eccetera. Claudia va a Bonn. Claudia va a Londra. Eccetera. Claudia va a letto. Claudia va a cena. Claudia va a teatro. Eccetera. Claudia va a fare spese. Claudia va a studiare. Claudia va a piedi. Piero viene in Italia. Piero viene in Spagna. Eccetera. Piero viene in discoteca. Piero viene in ufficio. Eccetera. Piero viene a fare una passeggiata. Piero viene a piedi. Piero viene da Milano. Piero viene da Barcellona. Eccetera. Piero viene da me. Piero viene da te. Eccetera. Attenzione! Piero viene da Milano. Piero è di Milano. Piero viene da 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 Milano. Grazie a tutti.